Tornare in mezzo alla gente per comprenderne davvero i problemi e impegnarsi a risolverli. E' questa la ricetta di Renato Claudio Minardi per la ripartenza del centro-sinistra dopo la recente debacle alle elezioni regionali. E' proprio lui il grande assente tra i neo-eletti in consiglio regionale. Nonostante le sue 4.490 preferenze, infatti, l'esponente fanese del Partito Democratico, nonché ex vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, non ce l'ha fatta. Ma dopo una breve pausa si dice pronto a ripartire con un nuovo slancio. Dopo cinque anni di lavoro molto impegnativo in consiglio regionale, che mi ha visto lavorare in prima linea, in prima fila, con tanto impegno, con tanta determinazione, portando a casa per il territorio anche tanti risultati che sono sotto gli occhi di tanti cittadini, credo che sia giusto trovare un momento di riposo, un momento di relax, di dedicarsi alla famiglia, di dedicarsi agli affetti, per poi ripartire temperati, ripartire con l'impegno, con la determinazione di prima, perché la mia passione per la politica non viene meno. L'impegno primario è quello di ritornare in mezzo alla gente, nelle fabbriche, nelle periferie, nei territori, perché i cittadini hanno bisogno di sentire la politica vicino, quella politica che analizza ma che dà anche delle risposte, perché se dai delle risposte ai cittadini, come è giusto e doveroso fare per chi fa politica, si riesce anche ad evitare che le risposte vadano con la semplificazione al voto di protesta o al voto a favore di chi urla di più. I problemi ce ne sono tanti, la crisi economica ha creato tantissime difficoltà in questi anni e ai cittadini dobbiamo corrispondere il nostro impegno e la nostra comprensione, stando in mezzo a loro, soltanto stando in mezzo ai cittadini si capiscono i problemi, altrimenti quando si va nei tavoli dove si prendono le decisioni, se non sei stato in mezzo ai cittadini non hai la capacità di comprendere quali sono le soluzioni giuste o i provvedimenti giusti da adottare. Per Minardi serve un vero e proprio cambio di passo e questo vale anche per il PD regionale, dove da giorni si respira aria di cambiamento. Io credo che ci sia bisogno in prospettiva comunque di andare ad una fase congressuale, perché dopo una sconfitta così importante come quella che abbiamo avuto nella regione Marche, provocata da tanti fattori, ci metterei il terremoto, una calamità naturale che è caduta addosso alla regione e della quale la regione non porta le responsabilità principali. La sanità, una regione che ha cercato di riorganizzare il sistema vincolata e obbligata da un decreto nazionale ma che ha fatto allontanare i servizi dai cittadini. Ecco, le liste di attesa sono questi i temi su cui dobbiamo trovare un modo per dare delle risposte. Il PD la prima cosa che deve fare è analizzare i perché. A fronte di questo credo che un congresso con un approfondimento, non un congresso tagliateste, un congresso che vada nel profondo per capire quali sono le vere problematiche che hanno favorito un centrodestra e che ha visto sempre di più allontanare la regione nei confronti dei cittadini. Ecco, dobbiamo rimettere insieme gli anelli della catena, dobbiamo riannodare il filo per fare in modo che il centrosinistra e il Partito Democratico ritrovino quella sintonia con i cittadini, con la popolazione, dando risposte adeguate, facendo un'opposizione vigile e propositiva nei confronti di chi ha vinto le elezioni e in questo momento dobbiamo rimboccarci le maniche, e lo ribadisco ancora una volta, stando assolutamente sempre e comunque in mezzo alla gente.